amici buon pomeriggio la banana non c'entra oggi video spacchettamento chain un po grande vediamo con le cose dell'altra volta ho fatto il reso che mi piacevano adesso ho comprato altre cose ancora devo spedire il reso ce l'ho di quello lo rendo vediamo allora un po di maglie questa una maglietta wow che bella vedete accettare magari sta tra lontana che era una maglietta così tutto bianco preso un'altra maglietta wow che bella con i cuoricini stupenda mi mancavano un po di maglie sono tante tante maglie e poi non mi ricordo che ho preso un'altra maglia questa col quadrifoglio questa mi sembra piccola tre xl così piccolina saremo sarà la mia figlia piccola per me c'è scritto trexl ma non è vero poi 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 un'altra maglia wow verde militare con l'altro cuoricino le spalle scoperte la mono spalla con la spalla così con le bratelline di lato, molto bella, molto molto bella, bellissima questa, poi un bel cotone, ho scelto solo roba in cotone, poi poi poi, questo mi sembra che è un vestito molto bianco, un vestitino per quest'estate, bello, che bello, ne ho un altro simile in cotone bianco, questo non è cotone cotone, è un misto ed elastico, carino, stavolta mi piacciono le cose, quella là ho dovuto rendere tutte quelle l'altra volta, tranne una, ah il pigiamino, pigiama, wow, wow che bello, pantaloncino con i cuoricini e anche la sua cannottiera, che bello, questo è strafigo raga, questo è bellissimo raga, pigiama, poi ancora, ma quanta roba ho chiesto, ancora qualcosa, vediamo, ammazza che spacchettamento, cos'è, un top, così, nero e maculato bianco, con la monospallina, bello bello, ho voglia se state a cambiarmi, poi fa cos'è costume, no, ah un altro top, wow che bello, questo è così, fucsia, con le spalle così, con le spalle scoperte, e la cerniera, questo è stupendo raga, stupendo, ancora? Allora, l'ultimo, l'ultimo, vediamo che cos'è, stavolta mi sento soddisfatta, stavolta ho scelto bene raga, che bello, ma com'è ricordato questa, wow, questa è turchese, con le perline intorno al collo, e la spalla scoperta, qui sul braccio scoperta, con tutte le perline, bella, wow, ho preso davvero tanta roba, e stavolta mi piace tutta, dopo la misura, ho riempito una seda di vestiti, vanno quanti spacchettamenti, spacchettamenti, ecco qui, questo era il mio acquisto Shane, buon pomeriggio a tutti, adesso vado a bere caffè con l'amica, un bacione!